Senta, e con il web, in che direzione sta andando il giornalismo? Il web è una straordinaria occasione di riflessione sul presente e il futuro del giornalismo. Diciamo la verità, spesso i giornalisti, soprattutto l'informazione mainstream, ha vissuto il web come una minaccia alla propria autonomia, alle proprie modalità anche operazionali, quindi al modus operandi del passato. Il web è stato vissuto dall'informazione mainstream come un'occasione di ridimensionamento delle dinamiche, delle tecniche, soprattutto le tecniche del newsmaking. Credo che invece sia un'opportunità, se cogliamo le tante opportunità del web riusciremo anche a capire come l'informazione mainstream può riposizionarsi in un mercato che cambia, in un mercato in cui sostanzialmente, la dico in modo molto molto semplice, ma credo anche molto prossimo alla verità, in cui il pubblico non è più certamente passivo, non è più neanche soltanto attivo, ma è anche interattivo, in cui sostanzialmente, come dice un neologismo di matrice anglosassone, la dimensione prevalente è quella del prosumer, cioè del produttore di contenuti e al tempo stesso del consumatore di quegli stessi contenuti. Quindi il web ci sta sostanzialmente chiamando ad una sfida, se volete anche inedita, che è una sfida di adattamento al cambiamento, un cambiamento sempre più repentino, di una logica cross-mediale che non è soltanto uno slogan scientifico, ma è una realtà con cui convivere, ma soprattutto ci sta abituando a capire che non possiamo più dar per scontato la produzione di senso sulla realtà, cosa che invece avveniva nell'epoca della comunicazione verticale e della informazione mainstream.